Allora un'ultima ora che riguarda una vicenda legata al terrorismo. Un cittadino egiziano, 43 anni, residente in Italia, soprattutto nella zona di Milano, dal 1999 è stato allontanato dal territorio nazionale in esecuzione di un provvedimento di espulsione del prefetto di Reggio Calabria. Ne dà notizia il Viminale. L'uomo lo scorso 25 marzo era stato rimesso in libertà dal carcere di Catanzaro, dove era detenuto dal 2015 per reati di violenza, resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali. E così salgono a 505 le espulsioni e gli allontanamenti eseguiti per motivi di sicurezza nazionale dal 2015 ad oggi, di cui 44 nel 2020. Nel 2019 sono stati eseguiti invece 98 allontanamenti, 126 nel 2018, 105 nel 2017, 66 nel 2016 e ancora 66 nel 2015. Continuiamo a parlare del virus.